Si chiama Amelia Goldsmith, è una famosa tiktoker di origine inglese, la quale ha raccontato quello che le è successo, si è recata ad un alimentare, offrendo ad una persona del tutto sconosciuta di pagare la spesa. Di terza loro provoste del genere, la persona che si è trovata davanti a lei e l'ha ricevuta dalle stesse, però, pensate che sia andata a rifiutare. Amelia ha raccontato tutto sul web, informando tutti di questa vicenda che, a mio avviso, va dell'incredibile. E allora non è vero come è vero quando una persona è povera e magari chiede soldi, che ha bisogno di soldi, di peculia per inseguito, che magari anche sostituendo i soldi con una spesa eventuale che si può fare, quella persona accette, perché in questo caso lo sconosciuto non ha accettato che la donna facesse la spesa per lei. Volevo pagare io la spesa a sconosciuti, ma tutti si sono rifiutati. Per quale motivo? La donna si chiede. E Amelia ha raccontato a tutti quello che è successo, voleva pagare la spesa, ma si sono rifiutati quasi tutti, o meglio anche costui che in qualche modo, barra in qualche maniera, è stato contattato, o meglio incontrato da lei stessa, dicendo che ti pago la spesa, ma lui non ha voluto. Incredibile, ma vero. forse qualcun altro magari avrebbe accettato, anche se le fa sapere che tutti quelli che ha incontrato e da cui ho offerto lei stessa di pagare la spesa, si sono rifiutati. Categoricamente, parlando da narratore italiano di Youtube Italia è tutto, grazie a tutti, ciao a tutti e una buona sera.